Siamo qua in diretta dal Salone delle Bandiere del Comune di Messina. Sta per cominciare il convegno sull'alimentazione naturale, siamo ciò che mangiamo e ciò che pensiamo. Il programma è molto fitto, intorno alle 9 doveva iniziare il convegno con la dottoressa Domenica Vizzi, i relatori sono la dottoressa Stefania Cazzavillano, la dottoressa Angela Cassata e il dottor Alfio Trovato. Il convegno si svolge dalle 9.30 fino alle 18, siamo qua al Palazzo del Comune di Messina, al Municipio di Messina, vi aspettiamo. Grazie a tutti.